Ecco come ricevere una skin gratuita, fate finta che in questo momento vedi Fortnite aperto e guardate qui non avete nessuna skin nuova Così a un certo punto ragazzi andate a lasciare in questo momento un bel like, perfetto, iscriviti Perfetto, se avrei fatto questi passaggi chiudi il gioco e riaprilo Ecco qui che si sta aprendo, quindi aspettiamo che qui si apre, punto caricamento in corso Ci siamo quasi, connessione, forza 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 Un attimo ragazzi, attendete un altro minutino Ok, guardate qui ragazzi skin gratuita se avete fatto questi passaggi che vi ho detto all'inizio del video